Il Matera, che si va progressivamente riconciliando con le vittorie e con il bel gioco, ha ritrovato oggi anche il suo pubblico. La squadra di Chiricallo non ha deluso le aspettative degli sportivi, battendo l'Alcamo per 1-0 e portandosi al quarto posto in classifica. Il problema della retrocessione, che fino a qualche settimana fa era più che reale, ora è relegato nel ghetto dei brutti ricordi. A firmare la vittoria dei Lucani è stato tomba, su calcio di rigore scaturito da un atterramento di Pavese in piena area. Un successo ottenuto con un pallone calciato dagli 11 metri appare, nella maggior parte dei casi, poco limpido. Ma questo discorso non vale per il Matera, che la vittoria se l'è guadagnata ampiamente, attaccando caparbiamente e costruendo numerose e clamorose occasioni da rete. In vero, nel primo tempo Gambini e compagni hanno speso molto, ma con scarsa lucidità, consentendo alla difesa dell'Alcamo, attenta e compatta, un tranquillo lavoro di contenimento. Una sola l'occasione di rilievo nei primi 45 minuti. Si è presentata al 39esimo quando Tompa, solo davanti a Mazza, ha calciato con forza ma il portiere dell'Alcamo è stato bravo a sventare in angolo. Nella seconda parte della gara il Matera scende in campo più determinato e al quarto minuto Mazza deve nuovamente far ricorso a tutta la sua bravura per neutralizzare un bolide di Lupini. Al quindicesimo l'ha già descritta azione da cui è scaturito il calcio di rigore trasformato da Tomba. Subito dopo il Matera ha la possibilità di raddoppiare. Pavese tira a portiere battuto ma un difensore dell'Alcamo ribatte fortunosamente sulla linea. La reazione degli ospiti si è concretizzata al 27esimo con un tiro di Cammarano finito di poco fuori e al 34esimo con Pecoraro secondo che costringe Casiraghi a sfoderare la sua abilità per deviare in angolo un tiro alla dinamite. L'Alcamo dunque non ha demeritato ma la vittoria del Matera è legittima e conferma la buona condizione di forma degli uomini di Chiricalo. Domenica si riposa, il prossimo appuntamento del Matera è fra 15 giorni a Modica.